Ok, siamo in diretta. Allora, buonasera a tutti. Visto che io sui media vedo solo cose negative sulla sanità di Napoli, allora ho fatto questa diretta per dire una cosa diversa. Noi siamo qui all'Oreto Mare. Io sto qua dal giorno 19 febbraio e mi dovete credere, sono arrivato che ero quasi morto e mi hanno salvato la vita. Questi sono i nostri angeli che ci stanno sempre vicino, ci accudiscono e ci danno da mangiare, ci portano da mangiare, ci fanno stare nella pulizia, puliscono tre o quattro volte al giorno, si vettono, lavano, fanno tutto. Signora, dica la verità, come stiamo qua? Siamo da Dio, ci hanno trattato, buonissimo. Eccoli qua, sono loro, i nostri angeli. Mi raccomando, condividete, fate girare perché condividono solo cose negative della nostra sanità, invece qua siamo da Dio. Eccomi qua, io sono Alessandro Cigarelli e niente, comunque siamo stati benissimi, siamo stati benissimi. Un bacio a tutti qui dall'Oreto Mare. Saludate!